Allora raga fammi la squadra dai Allora la squadra che ti propongo è questa Ragazzi per chi non sapesse dalle 22.30 una stream to animal crossing una 12 ore Oh posso vedere la carta mia di Messi fatta bene Che bello raga I due palloni d'oro Rodri lo proverei domani io raga Oggi darei la priorità a quelli più forti L'Hansen ancora non l'ho provato L'Hansen ancora non l'ho provato Infatti secondo me raga qui la situazione merita di essere cambiata Volevo giocare 4-3-2-1 con Bomma di Bellingham De Bruyne Ok L'Hansen Però non ce la faccio credo La Putejas gioca alla sinistra Quindi devo giocare per forza con mod Sì perché faccio così Faccio così Faccio così Qua mettiamo la Putejas Credo che metto Bellingham lo sai Ah no Più che altro se metto Haaland non posso giocare con Bellingham Perché se no Haaland è veramente il link hub Ma è vero che linka con l'Hansen in realtà Però la roba che mi tilta un po' è E che la Putejas è in presti E allora però ragazzi Bellingham o De Bruyne Ok Tocca l'incasso sicuramente Messi Allora Messi l'allenatore argentino va bene sicuramente dobbiamo mettere MLS però Quindi dobbiamo mettere almeno C'è chi importa sti cazzi raga Per ora che tanti difensori sono quelli che so Vendi Messi Ma non t'azzardà mai più a di una cosa del genere Porco Giuda Ma non stiamo scherzando Comunque stavo a pensare Potrei giocare pure 4-2-3-1 Con Messi trequartista Haaland punta Leva la Putejas E mettere Mbappé Casa eh Il problema è che Mbappé gioca allo a sinistra Cioè mi sento sozzo Vabbè potrei giocare 4-2-2-2 in realtà Esatto Più che altro che prende pure Mbappé adesso Mi sembra veramente una roba da maniaco Fa 15 milioni Prendo veramente tutti i soldi che c'ho Bellingham 6-2 Icona francese se voglio mettere Mbappé bene Eh frate Icona francese Lui Ah regà È proprio lui Lesbici di ottobre Porco Dio Laurent Blanc È tornato Però dovrei levare la puta Prestito e se risparmia Mardini Zio cane Io secondo me in realtà potrei levare pure i check Cioè tipo se per esempio levi i check E metti il cazzo A femminile come sta messa Io qua c'ho MLS Vero Mi vanno via 30 milioni Ah sì Ah sì Mbappé, Hansen, Haaland e Bellingham Sono 30 milioni Potrei tenerli in prestito La carciofina Ah regà devo per forza chiudere con tutti i icon Regà Levo Walker E metto Ma metto Cafu quello che già c'ho Dovrei comprare solo Alan e Hansen E poi il resto lo possiamo usare In prestito Per provarli ragazzi I giochi in game Il mio solito 4-2-2-2-2 Usami i prestiti Regà Dici che cazzo ce ne frega Eh anche perché poi comunque sto a comprare Alan e Hansen Che so 12-13 milioni Di loro due Vai fammo così dai Sono eccitato le comprate giocare con Shrek Questi stanno a giocare su 50 mila crediti Ah ecco E' andata a troglia la squadra Porco di è ritornato Walker Bono dai La squadra è carina eh Penso se fanno schifo ragazzi Tattiche personalizzate 4-2-2-2 La Hansen c'ha l'esterno Quindi in realtà io dovrei invertì Cioè io dovrei mettere Dovrei mettere così Messi a sinistra Tira ad esterno Hansen a destra Tira ad esterno Alan che c'ha 5 debole Facciamo così ragazzi Bomba di Bellingham Le istruzioni sono corrette Difesa equilibrata Restate in attacco Lui c'ho Eh voglio far salire a bomba di Perché Bellingham difende meglio No ma va Prevedi tutti i quit sullo 0-0 Infatti fratello Non bisogna far vedere la squadra Capito La brosa la guarda Bello Ho visto solo la difesa Ho visto solo la difesa Regà buono eh Trek Ma mi pare uguale Per vento era Per due Gameplay particolare Vediamo Jude Bappe Vabbè corre un po' Bappe Dai ragazzi Dai Piccola corsa De Killian Un silicone Oddio Guarda che dribbling Questo è l'R1 Sì Oddio No È un pazzo Shrek Killian Schifo Sì vero È partito Del freight Ma è partito Malissimo Sto tiro Ma Bellingham Come le fa le zonate Ah Ah Oh E qui chi batte Regà Go Mamma mia Ma quanto era forte Quella punizione Che cazzo di gol hai fatto Regà non c'ha senso Con il gol Madonna Bellingham È zio cane Sabo ma ti pare Agilissima Cioè credi che però L'Ansen Momentaneamente Non mi sembra Tipo meglio Delle altre versioni Che ho già provato Certo che mette Tutti i toti insieme Poi è un errore Da principiante Che ormai faccio Ogni anno Bello dai Hansen Piccio l'Ansen Ti dico che è troppo forte No vabbè ma forte è forte Ma perché Era forte sempre Però questo è rosso E in carcere Che cazzo intervento era Sì Si è girato Mamma mia La bomba Ti ragazzi Come si muove Aitana Come si muove Intervento Tumbappella La carcere L'ha ucciso Porco Giuda Ma che go è questo Cioè guarda qui Come si è allungato All'ultimo Su Walker Poi c'è Liscio Pam Esternazio Da 300 metri Boh Ma Messi è assurdo Frate Messi a me piace troppo No che succede Ma dai si Dai Ma no Ma non dovevo prendere Lo sto gol Dai Larga per Messi Bravo Shrek Ah no Non la posso prendere Io la palla Però raga Mi dispiace Cioè c'è quel problema lì La palla Non la posso prendere Ragazzi Eh è un game brutto Questo Dica la verità Mi pare proprio brutto Brutto Chi è in porta? Bello Messi No ma non penso Non penso abbia quittato Raga Penso che Penso che i server Siano andati a troie Basta Eh non dà la sconfitta Quittano Quittano la partita Entrambi Non dà la sconfitta E ciao No ha visto la squadra Ragazzi Guardo le tue storie Bella sta palla Per Shrek Bello Bello Ma sai che palletta Che gli ha dato la Hansen Lì a Shrek Raga la trive la trive la trive la trivella a giro Cioè la trivella col time finish Col playstyle plus Fa cacare Orrenda Non mi parte una trivella fatta bene Madonna sto Messi Vai Shrek Shrek bullizzato Da Darmian Come si è mosso un bappè pure qui Raga Madonna Minchia Ok 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 Dai Gillian Discanzi Ma che cazzo Vai Messi Ma capito Codo Questo è buono eh Bravo Shrek Godo Che cazzo Mbappé Time finish verde Sei ramagnato eh Next Andiamo Mbappé Sembra strano Forse perché è in prestito Ragazzi Dai Bellissimo Mamma la pulce Shrek Porco Giuda Ma massacrato L'ho caricato troppo ragazzi Ok sotto al 7 Alan Alan Shrek Molto bello Molto bello Shrek 10-0 10-0 eh Ragazzi Eh ma guarda che dopo post la decima le partite diventano veramente complicate Se posso segnare Nooo Alan Alan Oh ma insegnabile Porca troia Ma come devo tirà Il gol più brutto Il gol più brutto l'ho fatto Intervento alla Nainggolan I portieri diventano stupidi quando tiri d'esterno Però davanti alla porta Porco 2 Ho tutti i buffon Dai ragazzi Dai 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 Altri due Due game Il problema è che le partite toste arrivano mo' Che succede eh Eccoci ragazzi Dai vai Siamo arrivati eh All'undicesima partita in poi Chissà come mai È tutto un po' strano Ah vai 8 metri di homo 99 di fammi Di Lorenzo lo bullizza Bravo Shrek Ida nel nome full serie A Regà non si può passà Non si può passà Donna che partita ragazzi 0-0 Prego Alan De vigore contro Cordoba Cioè voglio dire Netto Bella 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 Dai ho qui Bello La Hansen Lo fa Bello A Peppe però la mezza delusione Sarà colpa del gioco del prestito Oppure sarà fatto che mi ha rotto il cazzo un bappé Cioè a me un bappé in game mi ha rotto proprio i coglioni raga Proprio una di quelle carte che usano talmente tutti il lag No ma guarda che gol ho preso Esatto è talmente tanto forte del suo che l'upgrade si sente di meno Mamma mia Mamma mia è infinito sto game L'Ansen non mi sta a piacere Aitana Devastante Aitana veramente bella 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 ragazzi Forte a difende Forte a attaccare Fa tutto No devo schippare la squadra prima che la vede Nooo Regà Blank Van Dyke Guarda che cazzo Certo In anticipo in ogni cazzo di cross Mi sono messo davanti Palla sotto le gambe In anticipo al colpo di testa Gran gol di testa Dai Minchia che gollaccio zio cane Porco Dio un bappé stacco lo scudero Goto In finish rosso della bomba T Che me la butta dentro Sotto le gambe di quel Di Van Dyke Di quel ragazzo antipatico Meno male che non ci ho speso 14 milioni Se no bestemmiamo pure sulle tasse Vai 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 Shrek Bombolone alla crema di Shrek 5 de debole ragazzi Mamma pè Ma vatta a pianne il culo Porco di Dio Aitana Aitana Vai Aitana Vola Aitana W's in the shot Aitana Bomba T Oggi la bomba T È messi De un altro pianeta Ce l'ha bustata la bomba T Sta partita Perché lei che l'ha svortata Con quel gol Che ho sbagliato pure il time finish Zio cane Eh sì eh stiamo a viaggiare 13-0 Regà sta Hansen Per me Boh Cioè sta Hansen Non mi ha fatto un cazzo 8 partite 2 gol 3 assist 7 milioni So tantissimi Regà Va pe peggio 8 partite 5 gol 1 assist Haaland 8 partite 10 gol 4 assist Messi 21 20-10 Ieri l'abbiamo giocato punta Ah no ma Messi In realtà Regà C'ha tipo 7 partite in più De quelle giocate Quindi sono tipo 14 partite Una cosa del genere 20 gol 10 assist Abbommati Porco giuda 8 partite 4 gol A me pure Bellingham In realtà Mi pare forte Sì ma So comunque 6 milioni Cioè per me 6 milioni Sono esagerati Regà Troppo 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 Troppi soldi Sto cazzo di Bellingham Raga Secondo me Non vale mai la pena Dagli tutti sti denari Mo vediamo Perché comunque Io voglio provare De Bruyne Voglio provare La Puteas Che restano ancora estinti Mo domani Vediamo se riusciamo a provarli Ronaldo il fenomeno Mamma mia Regà Mamma mia Meno male che non l'ho comprato Ronaldo il fenomeno Mi ha detto Zà Comprar il fenomeno Sta a 14 Mortacci sta a 12 8 Magari lo sai In realtà Sto pensando Potrei farmi l'ultima oggi Per lasciare 6 game domani Faccio l'ultima partita Con questi Se faccio 13-1 Mi taglio la gola Ragazzi Shrek Alleluia Alleluia la madonna Sanata Sanata Ricore netto Ragazzi Madonna ma quanto ho caricato Ragazzi Si stecca Bappé sei Disgustoso Dio cane 14 milioni Cioè è per forza il prestito Regà Tranquilli ragazzi È partito un Bappé Alleluia Voglio vedere se sbagli questo Killian Ma che rigore ho tirato La mossa della Hansen No Ragazzi È un 14 Domani dobbiamo fa 6 partite E dobbiamo vincere 6 su 6